allora nel momento allora riusciamo a fare con questo contatto allora è incominciata la vita di cospirazione e prima cercavamo di fare il giornalino allora già incominciato un altro gruppo con l'oberasco e altri avevano già loro erano già e già su questo su questo campo erano a trivelloni e la sorella erano già sul campo già prima era militare loro già lavoravano in questo senso qua cospiravano già allora però era un po fatto era iniziale allora a me mi danno questa cosa guarda qua bisogna fare battito questo documento battuto lo rulli e poi facciamo tanti fogli ma però era diventato una cosa un po non diciamo assurda un po faticosa insomma no allora quando sono andato a chiedere a don revagliati di lasciarmi andare su nel campanile della chiesa e che lui si era comandato non mi vuoi suonare le campane sentite tico ti sono le campane per cosa in me nel momento mentre facevo cominciamo a fare il rullo arriva un bombardamento se vi ricordate lì c'è stato anche dei morti su in vila piana allora tela io sono andato a casa con questa roba che aveva in mano sapeva l'altro jimmi aveva dell'altra roba se le portate in cantina io in cantina non ce n'erano potate in casa e in casa per dirla per continuare abbiamo continuato a fare dei fogli ma però la puzza di dell'inchiostro si sentiva nella scala capito dato considerato che noi avevamo i capiscala che erano tutti di fede fascista che tutte le volte poi ogni mattina davano andavano a dare notizie di quello di quello che poteva essere successo nella sua scala al gruppo rionale che era in via istria in fondo alle case dei combattenti allora portati in casa ma non potevo tenere sta roba però dove lo mettevo allora c'era questo l'api che ci conoscevamo avevano il contatto è venuto giù e mi ha fatto una nicchia nella mia camera da letto dietro a un comodino da notte e dove ho affilato dentro la radio cioè noi sentivamo la radio londra per un po ho fatto questo lavoro un altro buco invece avevamo messo la la cassetta da e con rullo e siamo detto però non potevamo più andare avanti in questa maniera detto che cavolo facciamo allora si era amati messi d'accordo che un bel momento incomincevamo in quel momento lì a fare le sap infatti in quel momento lì già organizzavamo le le squadre di azione patriotica no problema di trovare materiale ci serviva la macchina da scrivere avevamo una olivetti a loro che le olivetti erano un po scassatine no a noi ci serviva una macchina forte e non genere olivetti perché per incidere i come si chiama e cliché noi nella macchina da scrivere c'era il nero il rosso e il bianco i tasti sulla destra allora tra mettendo il tasso sinistra mettendo schiacciando il tasso bianco il nastro si distaccava non scriveva né più in nero né più in rosso incideva e incideva che cosa incideva la scheda la cosa da incidere da scrivere allora per noi ci voleva delle macchine che sapessero scrivere non solo ma le formazioni già ci chiedevano da di dargli delle macchine perché avevano bisogno per scrivere anche loro perché tutti hanno tutte le formazioni ha fatto facevano sempre le relazioni malgrado fossimo in montagna e magari fossero attaccati e cosa del genere allora si era messi d'accordo che c'era guido carruzzo in questo in questo ufficio dell'agrario che era in via dei mari allora lì c'erano delle macchine da un passaggio da un garage che era notti o uno di noi c'era dei vasisti che da delle vasisti che davano sul cortile sul terrazzo di questo no allora uno dei due della sap sono entrati dentro le ha lasciato il garage semi aperto tirato suo entrato in piena notte sono andate ha fatto ripulisti di macchine successo un pandemonio perché quello va su ha fatti denunce carabinieri e via discorrendo e noi abbiamo avuto una macchina decente da scrivere allora c'era anche il problema di trovare dei locali un primo locale sono dato da mio zio ha detto una cantina via mazzini ci siamo messi lì abbiamo incominciato a li affare allora il fare il la questione era questo era da trovare la carta per stampare era da trovare il cliché che erano i cliché erano delle vili dove tu incidevi restava inciso però a lungo andare quando l'inchiostro lavorava poi si spaccava non teneva lo scritto perché erano tutti i tagli e non so poi te lo faccio vedere erano tutti i tagli per cui per un po quella sap sono di girare sono di girare e i tagli si allargavano si allargavano ovviamente diventava una macchia quindi bisognava rifare tutto quanto questo era il lavoro da farsi allora noi abbiamo dovuto cercare di attrezzarsi e andiamo avanti e di attrezzare il migliore dei modi allora in via largo dei vegeri lo sai dov'è c'è giardinetto lì di fronte c'è un portone c'è quel palazzo una volta c'era la provincia lì e lì c'era la sepra che era la sempre era quella che controllava la questione dei dei vivere all'alimentazione insomma era un centro da che governava i buoni che tutta questa roba qui e lì chi c'era era la emilio lagorio emilio lagorio faceva parte del partito comunista clandestino dottor lagorio e allora una volta siamo andati su e gli aveva detto emilio tutto ci hanno detto che c'è una bella macchina a noi serve quella perché quella che abbiamo non ce la fa più è tutta scassata e poi riesce male ha cominciato a dire no a ragazzi adesso no noi esageriamo no no noi esageriamo adesso max era rizzo bruno maxi si ferma qui nel tuo ufficio se lo vuoi nascondere lo metti dentro un armadio lui ci sta è piccolo tu lascia aperto tutto perlomeno in maniera che noi possiamo venire e ci prendiamo la tua tuo ciclostile era un bestione così è più o meno ma però faceva mille a girare la manovella era molto veloce capisci ci salvava il cliché in uno secondo facevamo tante copie quanto ne volevamo questo che noi facevamo tutte le mattine quando era fatto era sul tavolo del prefetto sul tavolo del questore sul tavolo del federale sul tavolo del podestà era sul tavolo del del giudice che fra altre cose era storace uno dei nostri lui si trovava sul tavolo insomma venivano informati di quello che noi scrivevamo contro il sistema cercavamo la democrazia eccetera poi insomma è fatto questo però c'era una questione e la carta chi ce la dava era moneta di fronte all'eldorado il cinema lì c'era una libreria cartoleria dove da giovane a me conosceva perché andava a comprare i libri e quaderni eccetera e l'altro era a saitone che era qui in via pietro giuria sull'angolo prima delle del mercato anche quello conoscevo per vie traverse insomma e loro io andavo la diceva poi un giorno mi dicevano cosa ne fa lei di questa e io sono un impiegato della questura ci servono per fare degli la questura di quattro effetto perché il prefetto e la questura qui è allora c'è qui c'era tutto tribunale questore prefetto e entrate tutto qua era in questo nella casa qui insomma mi devi dire perché cosa è successo che un bel momento è stato un tema detto a questa roba questa gente doveva prendere sa roba a parte quelle che noi andavamo a rubare negli uffici ma dovevamo averne sempre e allora erano andati in giro a chiedere chi è che veniva a prendere sta roba questo qui un momento dopo e lei diceva viene sempre un impiegato della questura e io non lo so che sia qui questura qui prefettura questo è il giro della prefettura e quella dicevo questura insomma tutto un affare di questo genere questo ci serviva per fare i volati i giornalini il nostro giornalino si chiamava voce dei giovani ed era del fronte della gioventù perché avevamo costituito il fronte della gioventù era una questione nazionale insomma in definitiva insomma che noi abbiamo trovato questo sistema la sap è andato di notte in pieno in pieno coprifuoco ha portato via la macchina io sto abbreviando è no porti i punti più salienti dove se i passaggi sono tutti questi qua noi ci eravamo organizzati infatti la questa stamperia che funzionava al cento per cento e l'abbiamo messa in via quattro novembre all'angolo del primo palazzo cos'è il numero tre mi sembra uno due centri il secondo portone allora la provincia all'angolo opposto alla provincia quel portone che c'è lì sono lì all'ultimo al penultimo piano era l'appartamento era dalla farmacia riccardi che quella farmacia che in via via piave sulla salita di via piave si è andato lì gli ho detto sai io ho bisogno di un appartamento e si ce l'ha affitta ho saputo che mica gli ho detto cosa facevamo dice massa e non vorrei affittarlo ma a me serve ci ho detto sa ci serve abbiamo una famiglia un po numerosa e quindi vabbè poche parole l'abbiamo affittato e allora la piazza lì e lavorevamo anche più tranquilli insomma perché al primo piano tra le altre cose abitava una staffetta era una professoressa che poi ha sposato bava sano e infatti quando noi facevamo questi documenti mandavamo i pacchi giù al primo piano lei prendeva i pacchi usciva e consegnava le varie le varie staffette che le portavano nei nei nelle sedi cittadini nostre eppure le altre le poi le mandavano su in montagna capito per dire com'era l'organizzazione e lì ci siamo stati parecchioli e quanti eravate a fare questo foglio dica quanti eravate a due io i due è un altro gink che lui scriveva cioè frumento detto il via te lo conosceva perché da giovane aveva la testa pelata era anche lui di san francesco è di villa piana questi giornalini come ho detto andavano tutte le parti e non è in più ci eravamo messi a fare anche le barzellette c'era un ragazzo che abitava e via quella che di amici si ha detto il nome non lo ricordo e lui sapeva fare tutte quelle infatti ci hanno ancora uno su un giornalista e io dovevo avevo da mio zio mi ero fatto fare una spilla che tagliasse bene il cliché perché se sbagliavo il cliché basta fare un buco più grosso appena messi in macchina passava un giro due tre giri di di macchina con l'inchiostro bagnato così spaccava tutto e abbiamo fatto tutte queste barzellette che ovviamente ne abbiamo fatte tante e le sope l'hanno incominciata da rapiccicare per la città e la barzellette che prendevano in giri tedeschi prendevano in giri insomma in quello che c'ho io c'è la una di quelle e insomma in parte insomma le cose andavano 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 giù di brutto e con queste cose e rischiavamo chiaramente non partiamo del rischio perché sennò virtualmente noi combattevamo sempre con la non avevamo pistone se ci prendevano non avevamo nessuna arma di difesa e infatti due volte che mi hanno preso e la sono cavata vabbè e sono riuscito se no non c'era altra situazione il problema nostro era questo perché se noi ci prendevano non avevamo una linea eravamo lì insomma ci prendevano proprio facevano quello che volevano è un bel momento cosa succede che a noi danno ci mandano da udine una fotografia una fotografia dove si vede c'è un alpe stock le alpe stock sono quei bastoni che usano gli alpini in montagna si chiama alpe stock metti per saltare eccetera e sopra una testa di un alpino c'era la testa di una persona col beretta alpino cioè avevano presa a udine giù da quelle parti fascisti e gli hanno tagliato la testa e la pesa lì e ha fatto la fotografia noi un bel momento quella fotografia la riceviamo dice su questa fotografia bisogna bisogna lavorarci perché è importante e noi abbiamo fatto poi lo faccio vedere abbiamo fatto un numero con questa fotografia di quelle ne abbiamo fatto migliaia come minimo è successo il film di mondo a savona un casino per prima andare a cercare il come si chiama il fotografo ha cacciata l'area tutti i fotografi di savona per trovare la la come si chiama è la diapositiva di questa foto no e la foto l'aveva solo l'aveva fatta ce l'aveva fatta il fotografo di via palovoselli c'è sempre stato dove c'è quel palazzo con le colonne di fronte all'ex moderno lì c'era un fotografo c'è sempre stato ora non mi ricordo il nome e lui aveva fatte lui queste cose no però la diapositiva non ce l'aveva più l'aveva aveva bruciato aveva fatto e lì li ha capovolto tutto tutto la baracca era una baracca baracca anche per cercare insomma e lì si cosa cercate io non c'è niente quando ho fatto niente eccetera insomma un affare di questo genere e poi sono andati da altri fotografi ma il più importante hanno preso quello lì si vede che avevano avuto qualche soffiata dicendo perché quello era un po' dalla nostra parte e quindi c'è stata una soffiata è lui che l'ha fatta e le altre tra le altre cose l'aveva fatta e lui le copie che abbiamo fatto poi noi che è stampato poi sopra la al giornalino e insomma che non ho scoperto niente la cosa è andata avanti e allora è di lì noi siamo andati abbiamo continuato non è che siamo andati allora adesso succede che cosa in quell'appartamento dove ne lavora premetto un momento ancora c'era la tod allora noi servivano dei documenti per poter viaggiare di notte e non come fai e se tu lavoravi nelle imprese che facevano il vallo cosiddetto vallo tirenico con cemento dove tutti quanti erano a lavorare la tua potevi andare di giorno e di notte perché lavoravano il giorno e di notte cioè in più ti davano anche ti pagavano allora io ho trovato l'impresario abitava in via e via le ed era un amico insomma lo conoscere in via alessandra si chiamava cavassa l'ho preso che ho detto stami a sentire tu lavori per la tod no eh sì sai quei tedeschi vabbè ma se tu gli ho detto se tu vuoi alla fine della favola e ci arriveremo vuoi avere un po un aiuto tu mi devi dare tanti tesserini tutti i nomi mi devi dare anche i soldi detto che corrispondono a questi e e sta all'occhio perché sai se fai combini qualcosa la prima cosa sei tu che vai via allora no ecco noi daremo queste cose ma non ne abbiamo mai ammazzato nessuno le saperemo mai di fronte a noi su quel piano cosa si presenta la san marco l'intelligenza della san marco per puro caso eh quella la la stafetta di sotto la professoressa di sotto ci ha avvisato guardate che su adesso arriva arriva la san marco non ho saputo perché questi qui andavano venivano su e noi eravamo piani così eh uno di fronte all'altro ah sì insomma pieno eravamo sotto le feste di natale mi sembra di piena sera portare giù caretto e portare via tutta la roba che avevamo compreso il computer nella mia storia a portarlo via eh l'abbiamo portato via che poi l'abbiamo piazzato in una cantina poi non c'è più serviti perché le cose si sono via via aumentate quindi si è arrivata la liberazione ma noi ci siamo trovati così con la con la con la loro no avevano l'intelligenza l'intelligenza sono quelle le eh come puoi siedere i servizi informazioni militari eh diciamo noi il 007 per fare un'idea di quello cosa vuol dire l'intelligenza no e quindi loro avevano un ufficio lì eh di lì dirigevano puoi capire noi di là eh una parola voglia a dare profumi per rompere l'odore della della cosa c'era noi avevamo la targhetta c'era scritto impresa Todd Cavassa sulla porta c'era scritto impresa edile Todd Cavassa per cui questi qua erano tranquilli questi sono della Todd insomma la situazione si è presentata delle volte sono storie sembra l'impossibile delle volte quando penso dico ma ma ti pare che abbiamo fatto un affare di questo genere eppure l'abbiamo fatto e insomma abbiamo portato via tutta la roba allora questi archivi quando noi abbiamo finito l'hanno voluti gli americani gli hanno voluti gli inglesi ne avevamo parecchi li ha voluti il comitato di regolazione nazionale di Roma l'ha voluto il partito comunista di Roma gli ha voluto un altro partito non solo partito se è partito socialista o d'azione insomma un bel momento e li abbiamo distribuiti tutti e a me non è rimasto niente capito un giorno ero in piazza del popolo piazza del popolo verso la fine l'angolo dove una volta c'era una cartoleria e stavo parlando con una stafetta che era la trovatore i da trovatore erano due sorelle idea e ines ed erano stafetta infatti a lei gli avevo dato un pacco da portare in montagna e lei stava discutendo così io non volutamente siamo fuori dei portici sotto i portici passa un uomo e io lo guardo così come poi ti capita di guardare così parlando con lei lo guardo lo accenno così dopo un mi sento toccare la spalla mi giro ed era quello lì e dico desidera mi faccia vedere i documenti e lei chi è brigata nera io tiro fuori i documenti la carta d'identità me l'erano dimenticata nel rifugio io ho detto però mi è venuto in mente ne avevo due io avevo la carta avevo la tessera universitaria era un documento ufficiale gli dico questa è la mia carta d'identità ha niente da fare no questo lei è un partigiano come io sono un partigiano come fa a saperlo insomma sono distrattoni mi ha portato in federazione ce la farò a non parlare sai mica tanto mica tanto facile dire alla non ce la farò bisogna avere anche un certo fegato in federazione mi ricevono due giovanotti avrà avuto siano 18 anni i famosi fratelli zunino loro partigiano e portiamolo di là vedrai che adesso vediamo cosa è che vedete voi detto lei nel senso no guarda visto che anche quelli lì erano ignoranti non capivano che il documento era valido sulla sulla scalinata ci sei mai stato dentro la scalinata lassù scende uno perché sentito il rumore sento uno che scende vedi uno grosso tutto vestito di nero la stella qui la morte gradi e da lassù e grida seppimio che fai io ho detto cavolo chi è questo qua che mi cerca e vede lui e gli diceva è quello la comandante questo è un partigiano lui da lassù gli dava che partigiano viene giù lui sapeva tutto di me questo è il problema e ho detto va andiamo bene qua e adesso voi quello così subito voi quello che ha fatto lui non lo farete mai sapeva già tutto di me detto sta a vedere adesso io sono un disertore questo qui non vorrei che no 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 invece è stato corretto allora ha detto voi mettete sull'attenti no no non ci mettiamo e vi strazionavano gli ha detto voi non strazionate più niente perché questo qua è un ufficiale degli alpini che ha fatto la guerra voi la guerra non l'avete mai fatta non la farete mai così è mi mettete sull'attenti e l'ho salutato e non volevano io sono detto di a me finché va avanti così era mio compagno di scuola di Genova si chiamava Cardi e lui sai diceva cosa fai ma questo qui perché l'ho guardato per attraverso l'ho fatto vedere il documento non ho la carta d'identità ma questo qua è un documento valido ma gli ha detto ma se questi qua sono ignoranti cosa vuoi farci così è a quello la se lei non sa leggere e scrivere sa leggere e scrivere ma questa è una storia così è e io sai tremavo con una foglia ha detto qui quando quando esco io da sta situazione un bel momento finisce dice basta lei dice così decisamente basta mettete sull'attenti e salutate e lei che l'ha affermato poi ne parleremo ne parleremo a testa a testa e poi mi dice vieni salutatelo perché questo qua è un tenente degli alpini ha fatto la storia e mi porta fuori ho detto beh finché va così va bene e allora mi lascia tu l'hai mai vista la figurina che fa i fumetti quando corre passato via non ho visto più nessuno per parecchio e questo è l'incidente classico